Tutti i viaggi altro non sono che infinite variazioni di un unico grande viaggio. E quale sarebbe? Lascia la parola Claudio che vi introdurrà il suo nuovo corso online, il viaggio dell'eroe. È proprio così. Molti sostengono che tutti i grandi racconti, in realtà, non siano che le infinite variazioni di un'unica grande storia, il viaggio dell'eroe. La maggior parte delle fiabe, dei miti, dei film seguirebbe quindi gli stessi passaggi narrativi. Io ho provato a vedere se questo fosse vero e soprattutto se anche la nostra vita possa entrare in risonanza con quest'unica grande storia. Perché, se così fosse, questa storia è una mappa. Una mappa che ci può indicare il percorso che possiamo seguire per arrivare alla meta che desideriamo, ovvero diventare gli eroi e le eroine della nostra vita. Ecco che allora in questo nuovo corso online di tre serate ci tufferemo dentro il viaggio dell'eroe. Verremo in questo accompagnati da una grande saga medievale. Cavalieri, principesse, fallimenti, vittorie. Per scoprire alla fine che quei cavalieri, quelle principesse, quei fallimenti e quelle vittorie in realtà parlano di noi e ci donano alcune prospettive preziose per affrontare al meglio la nostra vita quotidiana. Durante i tre incontri ci sarà spazio, come sempre, per l'inquadramento concettuale, per vivere le emozioni dell'ascolto delle storie e per fare alcune esperienze. E tutto questo ci farà sentire la grande gioia che si prova quando ci si mette in viaggio alla ricerca di sé. Siete pronti a partire?